Allora, ripartiamo Quando devo lasciarla distendendo il braccio e salva sulla testa Pronto? Vai! Poi ecco in terzo Vieni! E poi Vieni! 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 Così Sciaplata al campo Senza andare al campo Giri il polso Quindi non è braccio, ma il polso Ok? E' un bel Sì 1. 1. 4. 5. 5. 5. 8. 8. 8. 8. 8. 9. Sì, c'è il capo sul campo. Allora, guarda. Grazie. Grazie. Grazie.